che peccato ragazzi brucia brucia veramente veramente tanto bentornati ragazzi la posta da Alex Maverick 98 post partita di Sampdoria a Lecce conclusesi sul punteggio di 1-1 e vabbè ragazzi poteva andare peggio potevamo uscire sconfitti abbiamo fatto la nostra onesta partita però avrei preferito portare a casa i tre punti ma ovviamente un punto non lo rifiuto perché comunque un punto fuori casa è sempre importante si allevamo quindi a nove punti e ci allontaniamo di qualche punticino ancora di più dalla zona retrocessione e ancora una volta ci dimostriamo essere una squadra in trasferta comunque abbastanza in forma primo tempo si conclude sul punteggio di 0-1 per noi con la padula che ha fatto una partita perfetta ha dato tantissimo alla squadra lancio dalla destra Shakov stop di petto la passa per la padula che spiazza il portiere della Sampdoria per i punti quindi 1-0 per noi e il primo tempo si conclude su questo punteggio poi diciamo il punto di svolta avviene alla fine del primo tempo secondo me perché per un presunto fallo di mano l'arbitro prima espelle Ferrari della Sampdoria dando il rigore poi Alvaro viene controllata l'azione ed effettivamente Ferrari non la prende di braccio e quindi l'arbitro annulla tutto secondo me quello ha dato anche forza alla Sampdoria perché poi nel secondo tempo la Sampdoria ha dato più spinta anche se abbiamo avuto qualche occasione e Taxidis centrocampista da Lecce viene spulso per doppia munizione a 70 forse anche un po' prima non mi ricordo bene per un fallo ingenuo su Rigoni Taxidis è grassato già munito per le proteste per il rigore alla fine del primo tempo e quindi rimaniamo in 10 riusciamo a difendere bene fino al 92 calcio d'angolo Ramirez praticamente l'ultimo entrato se non ricordo male nella Sampdoria colpisce di testa e il pallone va in rete Petriccione dentro la porta tenta di salvare ma niente da fare il pallone supera la linea e la Sampdoria agganta il pareggio negli ultimi secondi praticamente nell'ultimo minuto di partita e quindi si conclude sul punteggio di 1-1 e vabbè ci rifaremo alla prossima comunque è un punto importante però grande peccato ora la prossima sarà domenica con il Sassuolo in casa dobbiamo assondare e giocare bene perché il Sassuolo viene dalla sconfitta contro la Fiorentina darà il massimo quindi sarà importantissimo fare una partita attenta niente ragazzi bella buonanotte